Capitano, una serie pazzesca, pensare che tre mesi fa il Bolzano era l'ultimo in classifica, poi una scalata incredibile e adesso siamo qua al semifinale. Sì, devo fare un complimento a tutta la squadra, abbiamo mai smesso di crederci, abbiamo vissuto dei momenti molto bui in questa stagione, perciò adesso ce la godiamo ancora di più per essere in semifinale. Cos'è il segreto, cos'è scattato in questa squadra, soprattutto ai play-off? Penso che già la prima partita abbiamo visto che possiamo giocare con loro, dobbiamo crederci e piano piano abbiamo creato un andazzo dove tutti hanno contribuito e sono buttati tutti sui dischi, abbiamo lottato, abbiamo avuto un gran portiere nella serie e abbiamo giocato molto, molto bene in difesa. La serie war armknapp, è un'overtime-siege e è stata una serie forte, è stata una serie di queste, perché se n'è, anche se si s'ilessere un'azzo e inizio, è stata una serie di sicure, perché, come si può fare un certo, è stato un'azzo. Ma, come si è un'azzo, è un'azzo, è un'azzo, è un'azzo, è un'azzo. Lo ha fatto anche, è un'azzo, è un'azzo, è un'azzo sottosi, è un'azzo sottosi. Come si è chiesto, possiamo giocare come un po' di fosso, ma è un'azzo sottosimo. è qualcosa che abbiamo fatto qui e abbiamo bisogno di farlo. Hai una parola di questi fantastici fanci? Sono incredibili. Ci hanno aiutato molto. Mi ha mai avuto un'esperienza così. Ci sono cantando e chiamando. È difficile da dire che il ruolo è molto bello. Ho spero che ci stanno andiamo a farlo per questo anno.